E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo let's play di Assassin's Creed 2 Allora, dovevamo liberare i mercenari Però prima di fare ciò, io voglio vedere una cosa Voglio vedere una cosa, grazie Allora, provviste medico? No, ce ne ho una quantità, bene Allora, io, permesso, ya, fatemi passà Io non capisco perché la spada di Altair l'ho persa, raga Io non ci credo, guarda Aspetta, aspetta, aspetta Ok Cominciamo a levare un po' di notorietà Oh, ecco, lo sapevo, lo sapevo Vedete, lo sapevo Eh, estremi si rimedi, estremi si rimedi, no? Stanno qua No Dai, Ezio, cazzo, sali, sali Ma state vedendo Va Guardate qua Guardate qua Yeah, non posso perdere i minuti appresso a sto cazzo Dai, allora Vai Ti piacerebbe, eh? Dai, muori Ok, dai, muoviamoci Liberiamoli Grazie per l'aiuto, amico Ci piacerebbe combattere col te Se ci accetti Qui, avanti Di nulla Venite con me Andiamo a liberare quegli altri Dai, ragazzi Usufruisco di loro Perché in modo che Questo cazzo Stasto segna posto Siamo tutti quanti Presi dall'euforia E da un bel po', eh Che non vi portavo Ezio, eh Scusatemi, però Ho avuto Come si dice? Un po' da fare Mi dovete Certo che sta sotto attacco In quella cosa di tua sorella Guarda Dai, dai Muorici Eh, dai Muoviamoci E facciamo attacchi di rompente Raga Cioè Senza parare Anzi, in realtà Apparato, però Dai Eh, assassino Che cazzo dici? Ok Arrivo Ancora Tutte proprio Ok Liberiamo Quest'altri Siamo con te, amico Devi solo guidarci State vicino No, non ho fatto nulla Guarda Scusate, ragazzi Sto zitto Però Continuiamo, dai Sto perdendo un po' Anche il filo narrativo Ma comunque Io sono arrivato qua Chi è che sta sotto attacco Ah, donna Dai Cazzo Non è che posso passare Già mezza puntata Solo di questo Dai Dai Vai, spara Eh, spara Mo' Ok Combo finale Andata bene Bene Perfetto Ah, venite qua Eh, va boia Vai, vieni qua Eccolo Andiamolo Farò come voli Perfetto Non c'entro Vieni qua Oh, va Dov'hai Chi è che mi ha visto Mo' Eh, bravo Vedi di non rompermi i coglioni Eccomi qua Scusate Eh, una bella capriola Ci sta sempre Dai Installazione di Red Dead Redemption Completata Vogliamo unirci a te Insieme Agnienteremo i Barbarigo Ok Perfetto Direi subito Di andare Da coso Come si chiama Il tizio Da Bartolomeo Sì, sì Dobbiamo andare da Bartolomeo Raga È andato bene Ah, ragazzi Ultimamente Ah, devo andare pure A Villa Auditore Ah Ho 50.000 50.000 850 50.000 Sono diventato ricco Come Zio Paperona Ragazzi Cioè Fatevi una ragione Alla fine Uno potrebbe E non Ma alla fine Ezio Ha questo Comunque Ve l'ho detto Non è detto Che io Assassin's Creed Brotherhood Non lo faccio Attenzione No Oddio mio Dio mio Dio Ok Vai Saliti qua Vai Bravo Bravissimo Ok Vai Bravo Bravo Ezio Bravissimo No Ce la posso fare È sopra Il coso Sì Giusto Dai Vai Piano Ricordatevi Che chi va piano Va sano E va lontano Eh scusatevi Non riuscivo A premere il tasto Madonna Mia Madonna Sincronizzazione Da qua si vede tutta Venezia È bellissima Cazzo Quella è piazza San Marco Il ponte di Rialto E tutte altre cose Dai È andata bene Sono veramente soddisfatto Salto Della cosa Di tua madre Guarda Andiamo di qua Perfetto No 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 Vai dire Va Non su Cazzo Però Allora Allora Ritorniamo A conferirgli Che i suoi soldati Sono ritornati Qui E io Come al solito Sbaglio sempre Strada È un classico Cazzo Sbaglio Sempre strada Si da Si chiama Bartolomeo Si scusate Non ha soldo Nessuno Salute Ezio Bentornato E ben fatto La mia armata È tornata Ai fasti D'un tempo Ora Silvio Si accorgerà Del madornale Errore che ha commesso Come suggerisci Di procedere Un attacco diretto Contro l'arsenale No Ci massacrerebbero alle porte Ho in mente Un altro piano Prendi i miei uomini E piazzali in giro Per il sestiere I loro tumulti Indurranno Silvio A far uscire Buona parte Delle sue guardie E mentre l'arsenale Si svuota Dei suoi scagnozzi Io posso compiere L'assassinio Esatto Agirai quasi Indisturbato Speriamo che abbocchi Niente paura Abboccherà Ok In posizione Scorta i mercenari Fino al luogo Strategico Fissato da Bartolomeo Va bene Va bene Allora per prima cosa Vediamo dove dobbiamo andare Per sicurezza Ragazzi Dobbiamo andare di qua Ok I punti di osservazione Me lo devo fare da solo Perché non è possibile Vediamo di andarci Di darci una mossa Alt Di qua Fermi Smettila di saltellare Ranocchio Qualcosa riguardo Vedete Non sapevo Guardate Che palle Che palle Dai Così sbloccavo Il trofeo Così dai Uniti Allora Per andare di qua Dobbiamo andare così Vabbè quel punto Lo faccio da solo Ragazzi Aspettate Aspettate No E che palle Ok Ok Uno è ucciso Oh E uccidilo Cazzo Ok Vai col prossimo Ok Un altro Ok L'aria è stata Ripulita Aspettate Aspettate qua Il mio segnale Agli ordini State vicino Dobbiamo continuare Ripulisci L'aria Segnata Mi fate passare Cristo Dai Forza Muoviamoci L'aria In questione Dov'è? Vediamo un po' Ma è a pochi passi Da qua Quindi Ci andiamo A piedi Su e giù Su e giù Stealth Io direi Ok I due sono andati Al tappeto Un altro Lo mandiamo Noi al tappeto Subito Bene Di qua Ok Facciamoli venire qua Perfetto Rimanete in attesa Sarà fatto Si va Ok Dai Ce la stiamo facendo Dobbiamo soltanto Uscire adesso E andare Nella cosa Di tua sorella Dai Ma chi cazzo È Cazzo Dai Muoricci Dai Non posso Stacqua Persa Buia Che voglio vedere Quando cazzo Finisce Sto gioco Io quello Voglio capire Quando cazzo Finisce Eh Vai Morici Questo è Somiglia A quello Di Dark Souls Questo Ok Dai Ragazzi Venite Eh La notorietà È alta Non me ne fotte Proprio Facciamo Facciamola in aria Ok Di qua Vai Restate Restate ad aspettare Qui Facci sapere Quando colpire Va Benissimo Ce l'abbiamo Fatta ragazzi È andata bene Io mo tolgo un po' Questa roba da qua Comunque ragazzi Ci tengo a sottolinearvi Che la serie Sta continuando Ah Perdonatemi Perdonatemi davvero Se la saga La sto interrompendo Cioè Vi dovete scusare Ma purtroppo Vi dovete anche mettere Nei miei panni Ah Vi dovete mettere Nei miei panni Perché Come posso dirvi Con il lavoro Sto un po' Indaffarato Però i video Stanno uscendo Ah Cioè Le serie Che non stanno uscendo Però alcuni video Semplici Stanno uscendo Ah Quello sì Quello almeno Lo dovete capire Cioè Mettetevi nei miei panni Apprezzo Il supporto Che mi state dando Per Ezio E per qualcun altro Però E anche per God of War Vabbè A parte che adesso God of War Ragazzi Lo terrò un po' In disparte Finché Ezio Non finisce Perché sennò A parte che Secondo qualcuno Mannaggia Sore Da Mannaggia Eh Bravo Che secondo E stavo dicendo Secondo Qualcuno Eravamo Quasi Siamo quasi Alla fine del gioco Comunque Se non erro Però Io che vi posso Posso dire Ok Dai Sali Rorca Troia Madonna Bravo Sali di qua No Spera Fermo 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 Va Va Benissimo Guardate Il cielo Stellato Cazzo Ho solo Due minuti Eh Vabbè Ce lo facciamo Così Sincronizzazione Eh Purtroppo Ragazzi Dovete capirmi Ah Cioè Non sto facendo I video Perché con il lavoro Possiamo fare Salto Della fede E che cazzo Avevo trovato Anche una pagina Del codice Ora ci andremo C'è una pagina Per il codice Cioè qua Me la vorrei Prendere No 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 Non va bene Non va bene No No Va bene ragazzi Io il video Lo posso pure Chiudere qua Vi invito a lasciarmi Un bel mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Qua da Subbit È tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao